Ciao a tutti, se non mi conoscete mi chiamo William, benvenuto nel mio canale. Sono un principante nell'insegnare la vita su Gesù Cristo. Voglio solo dire a tutti i miei fratelli e sorelli italiani là fuori di credere in Gesù Cristo, a pentersi dai tuoi peccati, leggendo le tue Biblie e predicando l'Evangelico. Anche noi dobbiamo riunirci nel mondo da portare, creare gli errori e predicare la parola che è tutto ciò che ho da dare, grazie per l'ascolto e che Dio ti bendissi tutti, ciao, grazie.